Ho una specie di infezione al dito della mano destra, che non so se è un fungo o che so io. Mi è stato detto dal canale di chiedere se è giusta quella cura omeopatica che diceva del nonno, se è giusta per me. La cura che vi ho dato in qualche settimana fa è la cura che ognuno di voi dovrebbe fare per se stesso, per poter tornare all'armonia totale. Mi spiego, quando voi assumete omeopaticamente informazione di quanto vi avvelena e di quelle che sono le vostre scorie, voi assumete la totalità di voi stessi, poiché è l'uomo nella separazione, atteso a nascondere a se stesso quanto a lui non piaceva o non faceva comodo, di fatti l'uomo si nasconde per defecare, poiché è un atteggiamento che ritiene indecente e indegno. Non è semplice trovare un altro che scarica se stesso di fronte agli altri, gli uomini si nascondono e nascondono se stessi e a se stessi, quando l'uomo si renderà cosciente che le scorie da lui non sono che un'espressione di quanto lui ha generato e non ricongiungerà quello che riteneva negativo a quanto riteneva positivo, non potrà riunificarsi, non potrà riarmonizzarsi. Nessuno di voi ha preso in considerazione la cura e quello è stato detto per fare un test, per valutare, per vedere in che maniera voi affrontate voi stessi. L'indicazione omeopatica o l'informazione omeopatica spinge il vostro intero essere a operare un'unione totale, poiché quanto si riunifica nella materia, si riunifica in tutti i corpi sottili, si riunifica emotivamente, mentalmente, acaficamente, spiritualmente. Nello stato di coscienza, poiché uno voi già siete, dovete soltanto ritornare a rendervene coscienti e state studiando, state operando e lavorando molto bene, ognuno per se stesso e con gli altri. grazie della tua domanda, segui questa cura e ne vedrai gli effetti magici.